Sì, abbiamo inteso aprire questa parafarmacia per venire incontro ai bisogni della gente che frequenta questo luogo. Come tu sai, Antonio, ci conosciamo da tanti anni, io sono già operatore sanitario come farmacista in campo di pietra. Abbiamo ambedue la passione per lo sport in genere, sai, tanti anni di calcio ci hanno accomunato. Per cui abbiamo inteso aprire in un centro sportivo questa parafarmacia per venire incontro a quelli che sono i desideri e i bisogni degli utenti, ma non ci limitiamo soltanto a vendere prodotti per ortopedia o per atleti, ma abbiamo anche un vasto assortimento di creme di dermocosmetica, di farmaci senza obbligo di prescrezioni, farmaci veterinari, prodotti per bambini e articoli sanitari vari. Quindi è più vasta rispetto a quella che è una farmacia tradizionale? Beh no, diciamo che la farmacia tradizionale può dispensare farmaci dietro presentazioni di ricetta medica, per cui è un tipo di commercio, o meglio, di attività più specializzate e più specialistica. Mentre la farmacia, pur non scendendo nello specifico della cura della persona dal punto di vista sanitario, però abbraccia un po' il benessere della persona a 360 gradi. Dottoressa Marilena Durante, ci sarà lei poi come punto di riferimento per tutta la clientela? Sì, ci sarò io, ovviamente a disposizione di tutti i clienti. Il dottore mi ha dato questa possibilità, ci conosciamo già da un po' e io farò del mio meglio per essere a disposizione, aiutare chiunque e qualsiasi dubbio lo risolvo, insomma. Cercherà comunque di risolverlo. Dottor De Socio, aprire una nuova attività in tempi non proprio sereni è comunque sintomo di capacità imprenditoriale? Direttore, come sai è sempre difficile di questi tempi mettere su un'attività improprio, oltretutto con le proprie risorse economiche, però vorrei dire che dobbiamo forse fare qualcosa per il nostro Molise e aiutarci fra noi molisani. Ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare la famiglia Mascioli che mi ha messo a disposizione questo esercizio e vorrei ricordare a tutti quanti che questo è l'unico centro commerciale gestito da molisani, con soldi dei molisani e con tutti i molisani. Per cui se si viene qui si aiuta anche l'economia molisana, oltre che naturalmente la nostra, è ovvio. Però è l'unico centro commerciale completamente gestito e creato da molisani e questo credo sia una cosa importante.